Web Friends, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare, come vi avevo pronunciato nel video di ieri, del discorso e del grande dubbio che c'è dietro questo Mbappefit Birdie, Emeiol Birdie, Emeiol Toti, Emeiol Renove, eccetera eccetera. Anche perché, come vi avevo pronunciato ieri in piccola parte, c'è un discorso di fondo che va un po' a individuare il meta di quest'anno che è fondamentale, ovvero la quinta stella piedebole, che quindi non vale solo per i giocatori come Mbappe, che costano tantissimo, quindi so che molti di voi magari non se li possono permettere, ma vale anche per i giocatori più economici, ma andremo a vederlo. Perché io dico che questo Mbappefit Birdie è più forte del Toti? Perché dico che è meglio del fenomeno? Io ho provato tutti e tre, partendo da questo presupposto. Entrambi, questo circa 200-250 partite, l'ho comprato due volte, due o tre volte, visto che sono legato sentimentalmente al Mbappe Toti dell'anno scorso che mi ha portato un po' in giro nel mondo con gli eventi, e quindi diciamo che in questo Mbappe ho ricercato un po' il Mbappe dell'anno scorso, anche se il gioco è totalmente diverso, quindi non sono rimasto deluso perché è una carta devastante, ma non è il Mbappe Toti dell'anno scorso, per una questione di meccaniche. Ho provato il fenomeno che ho comprato tre volte, e l'ho usato anche qua a 200-250 partite, e adesso, uscito questo Birdie, vi dico perché è migliore. Perché? Partiamo col confronto tra il Birdie e il Toti. Come vedete, Warcraft è uguale, ovviamente cambia solo il piede debole. Nelle statistiche, tra il Birdie e il Toti andiamo a perdere un 2 di finalizzazione, un 4 di potenza tiro, un 4 di tiro da distanza che è relativo, un 3 di freddezza, un 2 di agilità, un 3 di equilibrio, e altri più 3 come reattività e controllo palla e dribbling, per quanto riguarda le stats di dribbling. Quindi abbiamo un meno 3 generale del Birdie per le stats di dribbling, e un più 2 di finalizzazione, un più 4 di potenza tiro, che sono quelli che sottolineano di più nelle stats di tiro. Per quanto riguarda il fisico, abbiamo un più 5 di stamina, un più 6 di elevazione che non ci interessa, un più 6 di forza che, come sapete, non sempre è un bene, ma parliamo di Toti, quindi in questo caso il discorso non vale perché il Toti è di un'agilità paurosa. Perché vi dico che il Birdie è più forte? Questo Mbappet Toti, finalizzatore assurdo, corre per carità del cielo, non va via comunque in velocità, ha appena beccato uno bravo neanche il Toti, perché quest'anno non si può fare, così come il Birdie, ma col Mancino, se voi lo usate per 50-100 partite, sulle volte che andrete a tirare di Mancino, questo Toti, molte volte non segnerà, si cagherà qualche gol di troppo col Mancino, non vi darà soprattutto la tranquillità che vi dà il foot birdie. Perché dico questo? Fate questo esperimento con qualunque giocatore, qualunque giocatore 4-5 piedi debole, su 10-15-20 volte che avete un giocatore tra le mani, guardate quante volte voi andrete e preferirete, anche quando si tratta di 5 piedi debole, a volte inconsciamente, perché non ve ne rendete conto, preferirete andare sul piede forte, vi faccio un esempio, provate con Neymar, che magari molti di voi hanno, quante volte tenderete comunque ad andare sul destro, preferire il destro? Questo perché è una cosa mentale, e allo stesso tempo, quante volte, provate proprio a vederlo in Rivals, in Wigell, quante volte un avversario di media, ma anche avversari molto bravi, tenderanno a coprirvi il destro di Neymar, il destro di Ben Yedder, e a lasciarvi un po' più di spazio sul sinistro, e magari andare a segnare proprio col sinistro. Quindi c'è un doppio risvolto, sia l'avversario sia voi siete condizionati da avere un 4-5 piedi debole, quindi con questo Mbappetotti, che ripeto, segna anche di sinistro, ma non segna quanto il foot birdie di sinistro, tra l'altro guardate questo che è statistica, 145 partite e 277 gol, quante volte l'avversario e voi stessi tenderete a preferire il piede debole? Quindi già questo Mbappet vi dà la libertà di girarvi su entrambi i piedi, di avere la tranquillità a voi, di segnare sia con un piede che con l'altro, e sia mette in crisi l'avversario sotto il punto di vista della marcatura. E questa è la prima cosa importante. Quindi, perché vi dico il birdie? Perché io, nel complesso, preferisco andare a perdere qualcosina a livello di tiro, qualcosina a livello di dribbling, perché il Totti è più agile, ancora, anche se questo già si gira velocissimamente, ha un po' più di stamina, tira un pelino più forte, ma nel complesso, per il meta di quest'anno, preferisco andare a utilizzare un 5 piedi debole piuttosto che un 4. L'anno scorso io con Mbappet Totti facevo i devasti, tant'è che un po' tutti, sia in Italia che in Europa, mi dicevano che ero uno dei migliori a usarlo, e mi ha portato, come vi dicevo, un po' in giro nel mondo, e anche a vincere un evento. Se io avessi avuto questo Mbappet l'anno scorso tra le mani, invece di questo Mbappet Totti, con i Tymed, questo qua era il giocatore definitivo, però l'anno scorso con i Tymed un po' si arrangiava. Altra cosa, perché vi dico che nel meta di quest'anno è meglio avere un 5 piedi debole? Quest'anno le skill praticamente non sono inutili, ma quasi, appena beccate uno un po' bravo, e oltretutto se ne può fare una sola di fila, come sapete, l'anno scorso uno prendeva e spammava le finte, quest'anno se fate una finta di troppo vi si allunga il pallone. Quindi, prima cosa, non c'è la possibilità di liberarsi come l'anno scorso con le finte. Seconda cosa, in velocità non si va via, diversamente dall'anno scorso, diversamente dalla FIFA 18, dove con i Totti, con i Tots, con i giocatori veloci, uno partiva e tirava dritto. Da fuori si segna poco, a giro di potenza, si segna poco anche con i super player, soprattutto con quelli bravi che ti chiudono tutti gli spazi. Quindi è fondamentale avere un giocatore che ti permetta, in quelle situazioni, di liberarti con il piede debole. E questo è il punto focale di quest'anno. E qui mi collego al discorso che vi dicevo prima, perché quando mi dite Ben Yedder, un Mbappé da punte, Cristiano Ben Yedder, io tendo a dirvi Ben Yedder, perché Ben Yedder, a livello di finalizzazione, è superiore a un Mbappé base. Cristiano Ronaldo finalizza probabilmente di più, ma Ben Yedder vi dà quella libertà di usare entrambi i piedi, che Cristiano Ronaldo non vi dà. Perché Cristiano Ronaldo, un altro finalizzatore assurdo, ma io preferisco, ripeto, avere un 5 piede debole, che quest'anno, con le poche azioni che si vanno a creare, con le finte che non si possono fare più di tanto e spammare, l'unico modo per andare, a liberarsi, per segnare, spesso è andare sul piede debole, visto che, appunto, la difesa è ultra OP, e quindi spesso riescono a coprire il piede debole in piede forte, in maniera semplice. Quindi riuscite a crearvi quello spazio in più, quell'occasione in più, magari andando sul sinistro o sul destro, quando si pare i giocatori sinistri con 5 piedi debole, ma ce ne sono davvero pochi, sono più i destri con 5 piedi debole. Quindi questo è il motivo, e, ovviamente, io questo ve lo dico, perché li ho provati entrambi, e non voglio però convincervi che io abbia ragione. Io vi dico la mia, ragazzi. Voi non dovete convincere me, io non devo convincere voi. Ma ricordatevi che ve lo dico, perché è realmente così. A me che questo, io l'ho pagato 4-6, ma che questo adesso stia a 5-8, mi cambia poco, ragazzi, onestamente. Non è che faccio queste cose, o gli altri però fanno queste cose per ai pare il prezzo, perché la stagione è finita, va a me. Quindi, se stava 4-6, va bene, è uguale, ma non cambia nulla. Ve lo dico, perché se avete disponibilità, da punta, non dovete esitare, dovete andare sul food birdie. Se cercate un esterno, ma io mi chiedo chi va a spendere tutti questi soldi per un esterno, andate su un Bappé Toti. R9 o il... Ho un Bappé food birdie. Qua c'è un altro discorso. R9 è un giocatore devastante, lo è stato fino per me, anche oltre ai Toti, perché quest'anno non sono usciti i Toti 5 piedi debole davanti, perché non è uscito Neymar. Ma, ad aprire, la mia domanda è, voi, togliamo di mezzo i sentimentalismi, quindi, se vi piace il fenomeno, giocare col fenomeno, e quindi, ovviamente, vi dico, giocate col fenomeno, ci mancherebbe. Ma se voi volete fare una scelta nel meta, ditemi per quale motivo io dovrei andare a pagare 7 milioni e 8, adesso questo costa 5-8, ma prima io questo l'ho preso a 4-6, quindi costava più di 3 milioni in più, un giocatore con finalizzazione praticamente uguale, potenza tiro praticamente uguale, passaggi passiamo da 84 del fenomeno, 92 di Mbappé Verdei, da 78 di lungo a 72, l'agilità da 87 a 97, l'equilibrio da 81 a 87, poi reattività siamo lì, contro la palla siamo lì, dribbini siamo lì, freddezza più tra il fenomeno. Un 79 di stamina contro un 94, il fenomeno, quando lo utilizzi, al 60esimo, 65esimo, perde tutta quell'esplosività, quel sapersi girare tra virgolette velocemente, perché non si gira velocemente come Mbappé. Forza 89, qui che va a influire, abbinata a un'agilità 87, un equilibrio 81, su un giocatore di 1,83 m, contro uno di 1,78 m, oltre al fatto che il fenomeno è normale basso, quindi una punta che tende a stare molto piantata, molto ferma, io quando lo utilizzavo in coppia con Eusebio, Eusebio partiva a destra-sinistra, non c'era mille movimenti, il fenomeno stava fermo, e finiva sempre che il fenomeno era quello che doveva fare gli assist per Eusebio che si muoveva, e aveva un sacco di assist e non abbastanza gol, oltre che però non ha un gran passaggio. Quindi il mio discorso è, meta parlando, che senso ha andare a spendere 3 milioni o 2 milioni in più, 2 milioni e mezzo, 1 milione e 8 in più per il fenomeno, quando stazza la mano, questo Mbappé è superiore in tutto, ma in proprio tutto, perché vi assicuro che il Mbappé-Footbird finalizza benissimo tanto quanto il fenomeno. Poi, se voi trovate più quel fenomeno, è un altro discorso, ma per me non c'è assolutamente paragone ed è per questo che insieme a Eusebio è la migliore punta del gioco. Fra Mbappé e fra Eusebio sta a voi. Mbappé è un giocatore più ignorante, tra virgolette, con cui tirare dritto, con cui fare qualche skill, e Eusebio è più un giocatore che va usato, ovviamente parlo del Baby, io adesso ho messo questo a osservare perché vorrei comprarlo, Eusebio è più un giocatore da muovere, diciamo, da precisini, da muovere nello stretto, fare giravolte su se stesso, non puoi ovviamente schillarci, quindi è un giocatore tra virgolette meno ignorante, come diciamo. Per chi, ovviamente, visto che se ne sta parlando tanto, il fenomeno, portatemi dei dati, dimostratemi come questo giocatore vale 7 milioni e 8 e vale più crediti di questo, perché per me, dati alla mano, avendoli provati in tutti e tre, non c'è minimamente paragone. Bappe Verde vale 5 milioni e 8, no, il fenomeno ne vale 7 e 8, no, Eusebio Moments ne vale 15, no, nessun giocatore quest'anno vale quei crediti, perché? Perché non ci sono gli SBC Icon, e gli SBC Icon non solo abbassano i prezzi delle Icon, ma di rimbalzo abbassano i prezzi anche delle carte normali. Pogba, perché costa 2 milioni e 7? Perché Gullit, che tra virgolette si può dire che sono sim, e ne costa 5 e 4 tuttora ad aprile. Ci fosse l'SBC del Prime di Gullit, come gli anni scorsi, che costava all'inizio sui 4, poi sui 3 e mezzo, l'SBC, di conseguenza Pogba non potrebbe mai costare 2,6, perché se c'è Gullit Prime in SBC, che magari tu con i non scambiabili paghi un milione e mezzo, Pogba costerebbe probabilmente un milione e 6, un milione e 5, un milione e 8, e non questo prezzo. Se ci fosse l'SBC del fenomeno Prime, che gli anni scorsi all'inizio stava 4,8, poi stava 3,5 l'SBC, 3, e ad agosto poi stava 2,8, Mbappé Birdie non potrebbe costare 6, perché anche più forte, e se la maggior parte lo preferirebbero al fenomeno Prime, e io lo preferisco comunque anche al fenomeno Prime, questo Mbappé andrebbe di linea con l'SBC del fenomeno Prime, quindi costerebbe 4,5, costerebbe 5, grosso modo. Quindi quando mi fate il discorso vale i crediti, questi li valgono in pochi quest'anno, questa è la verità. Però ricordatevi, questo è importante per chiudere, il meta quest'anno, è andare sui giocatori 5 piedi debole, più degli anni scorsi. Fosse uscito un Cristiano Birdie con 5 piedi debole, era la fine, era il giocatore più forte del gioco probabilmente. Quindi capite, anche quando parliamo di giocatori più low budget, e mi dite, prendo questo o prendo l'altro, io vi consiglio sempre i 5 piedi debole, perché vi danno quella libertà in più e quest'anno con le poche occasioni che si hanno è determinante avere qualcuno davanti che vi dà la tranquillità a voi e mette in crisi l'avversario su come marcarvelo. Quindi questo è quello che penso, ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate voi, perché sono curioso. Io Mbappé non so quanto lo tarrò ancora, penso stasettimana sì, perché come vi ho detto vorrei prendere Eusebio Moments, ma nel caso non lo prenda, stavamo parlando di fare questa squadra per provare finalmente Pogba e per provare Son, che è uscito nuovo, che mi incuriosisce molto e che è una gran bella carta, peccato quell'equilibrio che è ancora un po' bassino, però finalmente hanno avanti gli agilità, vorrei provare questo Son punta, anche per darvi un feedback, è meglio Son o è meglio la Gazette. Io credo che, più o meno siamo lì come giocatore, la Gazette costa quasi 400k in meno al momento, quindi andrei sulla Gazette, vi posso già dire questo, e quell'equilibrio di Son mi lascia un po' perplesso, però per il resto Sonalba, una carta che io adoro in ogni FIFA e sarei curioso di provare, quindi questa è un po' la squadra che potrei andare a provare stasettimana, vediamo anche se domani uscirà qualche evento, ma io non credo. Questo è quanto per oggi ragazzi, uscirà poi un video sugli storyline, penso domani, adesso tra poco ci vediamo live, sono le 3 e mezza, grosso modo, tempo di caricare il video, apriremo rewards, stasera dallo Zanoni, reward sull'account principale, abbiamo invece rewards da aprire su Rotoglore, vediamo un po' che troviamo, io spero di essere stato chiaro, spero di aver chiarito un po' la mia posizione riguardo questo Mbappé, vi ringrazio per la visione come sempre, vi lascio i link in descrizione di Twitch, Instagram, Twitter e del gruppo Telegram, abbiamo superato i mille membri, chi vuole entrare è il benvenuto, spesso mi inviate le squadre su Instagram, ma ragazzi io non riesco a rispondervi, le squadre su Instagram le faccio per i sub di Twitch, perché ho davvero troppi messaggi, non riuscirei mai a starvi dietro, però se entrate nel gruppo Telegram, ci sono giorni in cui io vi confronto con voi, con le squadre che mandate, i ragazzi ormai sono espertissimi, quindi vi consiglio di fare un salto, vi ringrazio e al prossimo video boys, un abbraccio.